Allora, prima forse ancora di mettere in luce il filo conduttore, il filo rusche che può unire o comunque far dialogare queste mie ricerche precedenti attorno alla figura di Luiotker e il tema del libro, vorrei ancora ringraziare i quattro relatori che si sono susseguiti e che mi sembra abbiano veramente messo in evidenza quello che era anche lo scopo di questi contributi che si sono riuniti all'interno del volume, cioè stimolare in realtà ulteriormente la riflessione, aprire degli orizzonti di ricerca e dei cantieri intorno all'approfondimento delle diverse tematiche che il libro contiene. Soltanto forse per indicare due o tre input sono stato colpito da questa attenzione, sia pure attraverso due episodi, due chiavi di lettura totalmente diverse sul savoir-faire, sulla trasfusione in qualche maniera di questo interesse nel rinascimento per il dettaglio, per la realizzazione del dettaglio decorativo applicato all'architettura fino all'elemento di arte applicata, come ci veniva mostrato per esempio da Cardamone a proposito della linea Werkstatt. Ho trovato estremamente interessante l'apertura anche dell'intervento di Orgham e Vettkova per quanto giustamente mette in evidenza la continuità, la ripresa direi per vago successive di questo concetto di rinascimento che poi in realtà è calato all'interno di un'utilizzazione che va dal quadro economico, quello politico, come ha insistito molto bene all'interno dell'intervento. E in ultimo, ma non ultimo, lo sguardo panoramico che Guido Zucconi ci ha offerto sul volume attraverso alcuni esempi in particolare, selezionando alcuni dei saggi all'interno della sua argomentazione, credo valorizzino proprio quello che era il nostro intento, cioè di far capire come in fondo guardare l'Ottocento attraverso il rinascimento e guardare l'inascimento attraverso l'Ottocento sono due aspetti che si incrociano. Mi sembra fossi tu stessa a insistere su questo aspetto poco fa. e aprendo dunque molteplici chiavi di lettura e cantieri di ricerca al tempo stesso per chi si interessa in particolare di rinascimento, ma anche per chi labora nello specifico più sul XIX secolo. Per quanto mi riguarda, sarò brevissimo, in realtà l'idea di lavorare attorno a questa tematica che ha senz'altro alle spalle degli anni di ricerca intorno a una figura come quella di Luiotquer, interessato in qualche modo, se posso dire, alle rinascite del classico all'interno di un filone estremamente nazionale, nazionalista anche per certi aspetti, attraverso le sue ricerche sull'architettura classica francese. Ma al di là di questo, appunto, questa ricerca che poi si lega anche a un cantiere mio personale, intorno in particolare alle riprese e alle riletture del rinascimento fiorentino attraverso le esperienze dei viaggiatori degli architetti francesi tra secondo Settecento e prima età dell'Ottocento, per me era proprio interrogarmi al di là del contesto francese da una parte e del secondo Ottocento e prima metà del Novecento sulle origini, innanzitutto, venire un po' all'indietro, cercare di capire come questo sguardo sul classico, più largamente, sulla maniera di guardare all'antico, si costruisce e viene strumentalizzato anche e viene elaborato nel corso del XIX secolo, di un lungo XIX secolo, abbiamo insistito, credo, tanto nelle nostre rispettive introduzioni, anche nella maniera in cui le due parti sono articolate. In realtà il titolo è la Renaissance italiana e le disnevinciècle, ma questo disnevinciècle è un disnevinciècle che deborda ampiamente sia all'indietro nel XVII secolo e confermo assolutamente l'interesse del saggio di Susanna Pasquali nel mettere in evidenza, ma anche ad esempio il saggio di Marco Calafatti, nel mettere in evidenza la genesi di alcuni processi nel corso del secondo Settecento e d'altra parte è un'onda lunga che valica ampiamente l'inizio del XX secolo, lo valica cronologicamente, lo valica anche geograficamente, penso che forse il saggio di Massimiliano Savora in questo senso è estremamente significativo di questa circolazione di modelli a cavallo tra la storiografia e la ripresa di riferimenti utilizzati per la messa a punto di progetti architettonici, ma anche in realtà per la trasformazione e la definizione di paesaggi urbani. Grazie ad Antonio Bruculeri, a Sabine Frahommel, non ha bisogno di presentazione, mi piace segnalare però come il suo tema di fondo sia quello dei processi di migrazione del linguaggio a livello europeo, al di là dei suoi studi monografici dal Bosco Sacro di Bomarzo, al più recente Giuliano da Sangallo, tutto il suo lavoro esemplare dal punto di vista scientifico sulle grandi figure. Poi c'è sempre questo tema dei rapporti tra la Francia e l'Italia, da Flibert de Lorme a Persier Fontaine, ma da Leonardo a Rosso Fiorentino, Primaticcio, Nicolò dell'Abbate, le figure alla corte francese. C'è in particolare una cosa, una chicca straordinaria sulla crocevia capitale della migrazione artistica. Bolognesi nel mondo, forestieri a Bologna e Bolognesi nel mondo. Questo dà un po' il senso della sua ricerca veramente straordinaria di questa capillarità, di questa pervasività del linguaggio e di questa contaminazione fra i linguaggi. A te Sabine. Grazie. Grazie.